Periti al lavoro per capire cosa sia accaduto, per far luce sulle cause dell'incidente aereo costato la vita lunedì scorso a tre persone, il pilota Pietro Brenna, 33enne di Como, e ai coniugi Francesco Gianola e Adele Croci, 68 e 72 anni, i due passeggeri dell'idrovolante precipitato sui monti di Premana nel Lecchese. I rottami del velivolo recuperati con l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco da ieri sera sono custoditi nell'hangar dell'aeroclub di Como, lo stesso dal quale il Cesna C-172 era decollato per un volo panoramico sul lago e sulle prealpi lombarde. Sono due le inchieste aperte per chiarire la causa della tragedia, una dalla procura di Lecco coordinata dal sostituto procuratore Cinzia Citterio e una dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Il magistrato ha nominato un consulente, l'ingegner Massimo Bardazza, che lavorerà alla ricostruzione della dinamica dello schianto che è costato la vita a Brenna e ai coniugi lecchesi. I rilievi e gli accertamenti tecnici potrebbero richiedere tempi lunghi e passeranno probabilmente alcuni giorni prima che i familiari delle vittime potranno avere il nulla osta per i funerali. Poco dopo l'incidente, l'anatomopatologo dell'ospedale di Lecco, Paolo Tricomi, ha raggiunto il punto in cui è precipitato l'idrovolante per i primi accertamenti sui corpi delle vittime, poi composti all'ospedale Manzoni. Al momento il pubblico ministero non ha ancora disposto l'autopsia, che potrebbe però essere richiesta all'inizio della prossima settimana dopo i primi esiti dei rilievi sul mezzo. Nella caduta l'idrovolante si è incendiato, solo l'autopsia però potrà chiarire se le vittime siano morte a causa dello schianto oppure proprio per le conseguenze del rogo che ha in gran parte distrutto il velivolo. Enorme il cordoglio a Como dove viveva Pietro Brenna e ad Abbadia Lariana, nelle chese dove invece vivevano i coniugi Francesco Gianola e Adele Croci. Molte in queste ore le commemorazioni e i momenti di ricordo e preghiera, soprattutto nelle parrocchie delle vittime.